Tommaso, mi dici che cosa stai facendo? Stiamo costruendo un robot Che robot state costruendo? Un robot, un giocattolo che poi stamperemo e assolutamente con la stampante Con la laser cut? Sì, con la laser cut Come l'avete costruito? Con un'app che si chiama TinkerCard Ok, è difficile? No, se lo troviamo tutti insieme è facile Bravi, fammi vedere un attimo questo robot Allora, questo è il robot, stiamo finendo Questo dovrebbe essere l'occhio Poi ci sono le braccia fatte interamente con i nostri pezzi modificati Poi ci sono un trapano Questo è il lavano normale Quasi un trasformer Più o meno Questo qua è lo stemma Lo stemma, perché il robot ha qualcosa che lo caratterizza E poi? Adesso stiamo progettando la testa E la testa è messa un po' troppo È un po' grossa Bravissimi Grazie a tutti Grazie a tutti